Ciao, benvenuto ad un nuovo audio di Magnetismo Personale. Oggi ti faccio una domanda. Secondo te è giusto dare una seconda possibilità in una relazione? Le crisi di coppia capitano a chiunque e se ti stai chiedendo se dovresti o meno dare una seconda possibilità alla tua ragazza, allora questo è l'audio di cui avevi bisogno. È probabile che in questo momento hai una confusione totale e non sai che fare. Durante i miei consulti per le relazioni in crisi mi capita di analizzare centinaia e centinaia di relazioni, tra cui relazioni che si trovano in stallo a causa dell'incapacità di decidere se dare o meno una seconda possibilità alla propria partner che ha sbagliato nei nostri confronti. Proprio per questo motivo, se ti trovi in questa situazione, troverai una vera e propria guida in questo audio da seguire per aiutarti a prendere la scelta giusta. Prima di andare avanti, ti ricordo che se ci stai ascoltando da YouTube, puoi iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi contenuti, oppure di seguire i nostri vari profili di riproduzione streaming, come iTunes, Spotify o altri. Prima di vedere se dovresti o meno dare una seconda possibilità alla tua fidanzata o moglie, è bene comprendere un concetto universale valido per tutte le casistiche. Il concetto che devi comprendere è che non c'è niente di giusto oppure di sbagliato. Ti dico questo in quanto probabilmente, prima di ascoltare questo audio, hai chiesto consiglio ad amici oppure parenti su quello che dovresti fare dopo che lei ha commesso un errore nei tuoi confronti. Le persone che ti sono vicine ti avranno sicuramente detto che è giusto oppure sbagliato concedere una seconda possibilità alla tua fidanzata oppure a tua moglie. Tuttavia, la verità dei fatti è che non esiste nulla di giusto oppure sbagliato, indipendentemente dallo sbaglio che lei ha commesso nei tuoi confronti. Quando un amico oppure un parente ti dice che è giusto o sbagliato dare una seconda possibilità, quell'opinione è relativa alle proprie esperienze e alla propria impostazione mentale. Questo perché non c'è niente di oggettivamente giusto. Piuttosto, tutto è relativo al proprio personalissimo ed individuale modo di vedere le cose in prospettiva. Ti faccio un esempio per aiutarti a comprendere il concetto. Parliamo di tradimento. Per alcune persone il tradimento è un errore imperdonabile, al punto tale che dare una seconda possibilità è fuori da ogni possibilità, anche infinitesimale, in quanto si tratta di un errore estremamente grave. Tuttavia, per altre persone, il tradimento non viene visto come un qualcosa di così grave e quindi dare una seconda possibilità è un qualcosa che può essere concesso con molta più scioltezza. Nessuna categoria delle due ha ragione sull'altra, si tratta solo di opinioni riguardo il tema tradimento. Ti basti pensare che alcune coppie provano addirittura piacere nel vedere il proprio partner tradire e anche in questo caso non c'è nulla di universalmente giusto o sbagliato. Quindi, prima di prendere una decisione, è importante comprendere che non c'è nulla di giusto o sbagliato e se una persona ti dice che è giusto oppure sbagliato dare una seconda possibilità, questa è solo una sua opinione personale che può essere addirittura opposta dal tuo modo di vedere le cose. Elimina quindi il concetto del bianco o nero. Piuttosto, parti dalla tua prospettiva sulle cose. Cosa fare quando non sai che fare? Come ti ho detto in precedenza, non esistono mai occasioni in cui bisogna dare una seconda possibilità e altre occasioni in cui non bisogna dare una seconda possibilità. Piuttosto, esistono solo occasioni in cui per te ha senso o meno dare una seconda possibilità. Quello che devi fare in questo momento è azzittire tutto il rumore nella tua mente provocato dalle opinioni di terzi e focalizzarti innanzitutto sulla tua unica e personale opinione. Solo tu conosci la tua partner meglio di chiunque altro e solo tu sarai la persona che condividerà la vita con questa partner che in questo momento ha commesso uno sbaglio nei tuoi confronti. Proprio per questo motivo che non puoi delegare a terzi la scelta sul darle una seconda possibilità. Impara ad ascoltare te stesso, fregandotene di quello che pensano gli altri e prendi quindi la tua decisione solo ed esclusivamente sulla base del tuo pensiero critico. Prima di prendere la decisione, prenditi del tempo in modo da non permettere alle emozioni di contaminare il tuo pensiero critico, dato che le emozioni sono il nemico della razionalità. Ma come fare per prendere decisioni più facilmente? Un trucco per prendere le decisioni in modo più facile è quello di rendere la decisione reversibile. Comunica al tuo partner la tua scelta, tuttavia comunica anche che la tua non è di certo una decisione definitiva e vincolante per la vostra relazione, dato che potresti ripensarci in futuro. Per esempio, puoi pensare di darle una seconda possibilità, ma riservandoti il diritto di cambiare idea se ritornando insieme non riesci comunque a vivere la relazione come vorresti. Questo trucco ti permetterà di riuscire a prendere la decisione di dare una seconda possibilità senza sentirti vincolato e impossibilitato a tornare indietro se la tua scelta non ti fa stare bene. Una volta che sei stato chiaro fin da subito, non dovrai quindi sentirti in colpa di nulla. Abbiamo quindi visto che nella realtà dei fatti, dare una seconda possibilità o meno non è mai un qualcosa di universalmente giusto oppure sbagliato. Bensì, tutto dipende dal proprio punto di vista. Questo vale indipendentemente dallo sbaglio del partner. Proprio per questo motivo che il mio consiglio è quello di imparare ad ascoltare di più se stessi e decisamente meno le opinioni delle persone che ci stanno intorno, essendo che sono relative alla personalità. Per aiutarti a prendere la decisione con più facilità, puoi sempre rendere la tua decisione reversibile. Se poi deciderai di darle una seconda possibilità e vuoi un consulto su come recuperare la tua relazione, puoi sempre chiedere un consulto con me, così che ti potrò indirizzare sulla strada più giusta sulla base della tua situazione attuale. Riconquista la tua ex, richiedi un consulto personalizzato per la tua situazione. La fine di una relazione è dolorosa e i margini di errore sono minimi se non vuoi rischiare di rovinare ulteriormente il rapporto. Ecco perché puoi affidarti alla mia esperienza per recuperare la tua relazione grazie a questo consulto personalizzato. Puoi trovare questo e altri articoli sul nostro blog e se vuoi, nelle nostre risorse premium, puoi trovare molto altro che può dare una svolta alle tue relazioni. Basta andare su magnetismopersonale.com slash risorse, oppure direttamente dal nostro sito magnetismopersonale.com cliccare sul pulsante rosso risorse. Se questo audio ti è piaciuto e ci stai ascoltando da YouTube, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato sui nostri nuovi contenuti. Se invece ci stai ascoltando da un servizio di streaming audio, come iTunes, Spotify o altri, segui il nostro profilo per poter ascoltare anche altri contenuti interessanti. Ti do appuntamento al prossimo audio. Per oggi è tutto.